Si chiama Fede Cristiana, Devozione Mariana e Pandemia da Covid-19, il caso della comunità di Biancavilla ed è il saggio presente sulla rivista numero 13 della prestigiosa pubblicazione internazionale Comparative Cultural Studies European and Latin American Perspectives del professor Valerio Ciarocchi dell'Ateneo di Messina. Il saggio racconta aspetti devozionali e relazionali vissuti sotto lo sguardo della Madonna delle Lemosina da alcune realtà ecclesiali biancavillesi in tempo di pandemia. La rivista, edita in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, è nata con l'obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze tra studiosi europei e latinoamericani sul tema della diversità socioculturale e su aspetti antropologici.